Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, anche oggi ci troviamo alla Oxygen di Abu Dhabi e sono qui per mostrarvi i 5 migliori attrezzi di questa palestra quelli più fighi, quelli più strani, quelli che non ho mai visto in nessun'altra palestra neanche alla Venus Gym e neanche in California Vi ricordo ragazzi che sul mio canale nei video precedenti trovate tantissimi video svolti alla Venus Gym di Dubai e vi spoilerò una cosa, tra qualche settimana andremo a Miami e poi a Las Vegas per girare dei video nelle palestre anche in occasione del Mister Olympia quindi ragazzi se non l'avete ancora fatto attivate la campanella, iscrivetevi al canale così vi arriveranno le notifiche quando usciranno i prossimi video che saranno delle vere e proprie bombe in più ragazzi qualche settimana fa ho girato un video sempre qui alla Oxygen di Abu Dhabi dove vi mostro nel dettaglio tutta la palestra, vi dico i prezzi e tutto quanto quindi se non l'avete ancora visto andate qui sopra, cliccate e andate a vedere come ben sapete uno dei miei gruppi muscolari preferiti si nota anche perché ce l'ho particolarmente allenati rispetto alle altre parti del corpo sono le spalle, io le spalle mi piace sempre devastarle e allenarle da tutte le tipologie di angolazioni però ho trovato un macchinario fighissimo che adesso vi mostro ragazzi che dire questo attrezzo mi dà un bellissimo transfert di lavoro su tutto il deltoide in più come potete vedere abbiamo questa tipologia di manindia dove possiamo variare l'impugnatura qui abbiamo l'impugnatura che sta più frontale che va a simulare la spinta con il bilanciere davanti questa impugnatura qua è leggermente più dietro quindi va a simulare il cosiddetto lento dietro alla testa quindi c'è una immaginazione della parte del deltoide posteriore poi abbiamo anche questa impugnatura qua neutra e poi è bellissimo perché ha questa angolazione lo schienale che ti permette di scaricare in maniera minore il carico sulla schiena e lo senti lavorare tutto sulle schiena quindi ottimo attrezzo scorre benissimo se venite in questa palestra vi consiglio di provarlo mi è cascato l'occhio in un altro macchinario che ho appena provato fighissimo però questo sarà al di fuori della classifica di cinque migliori attrezzi dell'oxygen proprio lo voglio mostrare perché è figo va a simulare un movimento che molti di voi vanno a svolgere specialmente in fase di riscaldamento per i vostri cammini della spalla con il cavo però questo è un macchinario è figo però sinceramente io non lo farei mai nei miei allenamenti lo farei solo come riscaldamento adesso andiamo avanti con il secondo attrezzo migliore questo non lo ritengo tra i migliori a primo impatto non capivo a cosa servisse questa panca poi ho capito l'utilità e la trovo molto molto utile dovrebbe esserci tutte le palestre e che vi aiuta ad isolare in maniera perfetta i vostri bicipiti quindi quando le andate ad allenare in più questa angolazione dello schienale vi aiuterà a scaricare meno il peso sulla vostra colonna è bellissimo perché avendo i gomiti in appoggio sulla panca riuscite ad attivare al massimo i vostri bicipiti in più l'angolazione data dallo schienale della panca vi permette quando andate giù di andare in massimo allungamento è una sorta di panca scott però con lo schienale inclinato la trovo davvero davvero utile e particolare mi sono innamorato degli attrezzi per le spalle di questa palestra ottimo macchinario per andare ad attivare la parte posteriore della spalla bellissimo perché ha pure il pedale per bloccare il peso a livello di transfert sul nostro deltoide posteriore è ottimo sento attivare bene il muscolo e ha un ottimo isolamento oltre al deltoide posteriore lo sento bene anche sulla parte centrale della schiena quindi su tutta la zona del romboide e anche del trapezio questo attrezzo è bellissimo è un rematore con il bilanciere orizzontale però guidato qui abbiamo dei perni guidati come se fosse un multipower e la cosa bella è che oltre ad avere l'impugnatura come il classico bilanciere anche l'impugnatura a presa neutra oltre che alla classica impugnatura come il bilanciere quindi attrezzo bellissimo a livello di dorsale se avessi una palestra ai miei ragazzi questo attrezzo lo andrei a comprare perché è veramente bello comodo e anche efficace non provi ah sorry non provi non provi non provi non provi avevo appoggiato il telefono nel macchinario accanto è arrivato questo ragazzo accanto a me è partito con l'esercizio e me l'ha prantumato però per fortuna si accende sempre però lo schermo si è rotto anche questo come quello che vi ho mostrato poco fa è lo stesso attrezzo ma cambia praticamente l'angolazione quello di prima era orizzontale questo è inclinato quindi è lo stesso attrezzo ma lo sentite attivare a livello di lavoro nella vostra schiena in maniera diversa ottimi attrezzi questa linea di attrezzi veramente molto molto belli e comodi bellissimo attrezzo che non avevo mai visto prima d'ora questa carrucola che solleva il peso in una maniera un po' particolare si sente molto il lavoro da questo punto qui a questo punto qui quindi diciamo quando si inizia a salire la prima parte molto molto dura la chiusura è un pochino più morbida però come potete vedere la chiusura è un breve tratto diciamo che gli ultimi 3 cm sono mediamente facili e tutto il resto è movimento molto molto duro quindi un attrezzo particolare se uno vuole allenare braccia con uno stimolo diverso questo è un attrezzo che consiglierei quindi ragazzi siamo arrivati al termine del nostro video perché questo era diciamo il quinto attrezzo che vi ho mostrato spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando ragazzi come vi ricordo sempre il nostro servizio di coaching online è attivo se voi volete trasformare il vostro fisico di mettervi in forma prendere qualche muscoletto togliere un po' di grasso io e la mia ragazza ci occupiamo di aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi io seguo uomini Irene segue le donne quindi se volete entrare a far parte del nostro servizio di coaching online trovate tutte le info per contattarci qui sotto in descrizione e ragazzi vi ringrazio lasciate un bel like un bel commento a questo video e ci vediamo nei prossimi